Che momento è questo per Ahmad Ben Ali? Un momento negativo, non gioco, quindi mi alleno e ovviamente il mister vederà altri meglio, quindi è giusto che mette quelli che per lui sono stati meglio. Tu sei stato uno dei migliori nell'annata della promozione con Oddo, sei stato sicuramente il migliore nel campionato di Serie l'anno scorso. Cosa manca per rivedere quel Ben Ali? Solo la fiducia del mister? Manca minuti in campo, se non gioco cosa posso fare, quindi io purtroppo non lo so, c'è poco da dire, non gioco, come l'ho detto prima, ovviamente il mister tiene gli altri più pronti, come vuole giocare lui, penso che gli altri possano far meglio, quindi le scelte vengono rispettate. Dove deve arrivare questo Pescara secondo te? Il Pescara deve puntare sempre in alto, penso che la piazza lo merita, è uno dei piazzi più importanti in Serie B, quindi dove siamo ora secondo me non va bene, la squadra deve fare meglio e deve puntare per vincere. Due anni fa decisi un gol di La Padula e notturna la Spezia vinse 1-0 il Pescara, domani che partita ti aspetti? È sempre difficile la Spezia, la Spezia è sempre una squadra tosta, soprattutto in casa, che gioca un buon calcio e noi dobbiamo cercare di fare punti e continuare a vincere, quindi la squadra ha fatto bene contro i Vercelli, dobbiamo cercare di un po' di continuità. L'ultima, anche alla luce di quello che hai detto poco fa ai nostri microfoni, parlerai con il tuo agente, parlerai con la società, vuoi dimostrare qui? Cosa farai a gennaio? No, non devo dimostrare qua, io penso che già la piazza mi conosca, quindi la gente sa cosa posso fare, cosa posso dare a questa squadra, quindi sta a loro a vedere quello che vogliono fare. Io ovviamente sono giovane, voglio giocare, quindi si vedrà. Grazie.